Eccoci quindi qui ragazzi allora sotto un caldo torrenziale anche nel parcheggio sotterraneo della Copp ecco faccio anche product placement, eccoci con un nuovo video di mercato ritorniamo come al solito a parlare di un nuovo nome, anzi per modo di dire un ritorno di un vecchio nome per quanto riguarda il reparto offensivo e a quanto pare stando alle ultime indiscrezioni della Repubblica quindi prendo le parole con le dovute pinze, la Roma sembra essersi fiondata su Mauro Riccardi sappiamo molto bene che qualche settimana fa c'era stato un interessamento della squadra giallorossa sul giocatore argentino considerando anche il fatto che il giocatore è in uscita sotto ogni punto di vista ma l'affare al momento venne stroncato sul nascere perché l'Inter voleva comunque parecchi soldi perché lo stesso giocatore in quel momento voleva restare all'Inter e quindi la situazione si è fin da subito rivelata molto complicata in questo momento però 26 luglio 2019 tutto sembra essere cambiato non solo perché la volontà del club è diventata ancora più forte di liberarsi dello stesso giocatore ma anche perché allo stesso Icardi stanno cominciando a venire in testa pensieri diversi dalla permanenza in Maia Nera Azzura perché hanno capito fondamentalmente e parlo ovviamente sia di lui che di Vandanara che all'Inter non ci possono più stare e quindi stanno sondando un pochino le varie piste per capire quale potrebbe essere la scelta migliore per loro dico loro perché sono una cosa sola praticamente e capite cosa intendo primo nome fatto Juventus prima nome di squadra fatto ecco Juventus la Juve che si è sicuramente interessata al giocatore che lo reputa comunque un ottimo attaccante per il reparto offensivo il problema però in questo caso è fondamentalmente uno c'è Iguain Iguain sappiamo anche noi molto bene ancor più degli altri che è il primo obiettivo per quanto riguarda l'attacco della Roma ma la situazione non è mai decollata solamente per la volontà dello stesso giocatore che vuoi per un discorso di buona uscita vuoi per un discorso di permanenza la Juve fatto sta che non riesce ad accontentare chi vuole vederlo con la maia giallorossa perché i due club hanno già trovato un accordo da tempo prestito biennale con 9 milioni adesso e 27 milioni alla fine del prestito ma il giocatore a quanto pare non vuole muoversi da Torino e la Juve sembra in questo momento convincersi un pochino di più nel trattenerlo e farlo diventare l'attaccante titolare quindi qualora Iguain dovesse restare alla Juve è palese che Cardi non potrebbe essere acquistato per una questione monetaria e ovviamente di spazio perché uno dei due non ti resta per fare la riserva avete capito cosa intendo seconda squadra che si è informata sul giocatore il Napoli Napoli che sappiamo molto bene che ultimamente sta operando molto per quanto riguarda il reparto offensivo voleva prendere Ames Rodríguez ma sembra che andrà all'Atletico voleva prendere un altro centrocampista comunque sta facendo diverse manovre di mercato io a quanto pare sembra aver trovato un primo accordo con il Lille per l'acquisto dell'attaccante Pepe che io non conosco particolarmente bene quindi non mi esprimo a riguardo il presidente dice che è stato trovato un accordo sulla base di circa 80 milioni di euro o comunque ha detto che il Napoli ha comunque ha fatto un'offerta che rispetta le loro esigenze che sono appunto quelle di 80 milioni bisogna vedere però se sarà una trattativa sullo stile di quella Manolas Diavara nel senso che effettivamente il Napoli ha versato 36 milioni nelle casse della Roma che però ne ha spesi 21 per acquistare Diavara e sono convinto che qualora fosse saltato uno non sarebbe arrivato l'altro e viceversa quindi io credo che qualora Pepe fosse acquistato dal Napoli per circa 80 milioni sicuramente gli verranno date delle contropartite al quale verrà un po' gonfiato il cartellino per forza di cose e che serviranno appunto per diminuire la spesa del cartellino per l'acquisto di questo attaccante quindi sotto questo punto di vista se il Napoli dovesse appunto acquistare Pepe è palese che considerando la spesa tra ingaggio e tutto difficilmente potrebbe arrivare anche Icardi quindi appunto anche il Napoli si defilerebbe dalla corsa per acquistare l'attaccante argentino attaccante argentino che almeno fino a questo momento sembra avere richieste solamente in Italia una cosa secondo me assurda perché o non le sponsorizzano non sponsorizzano le squadre estere ma io reputo Icardi un attaccante fortissimo, un attaccante di livello europeo uno dei migliori attaccanti in Europa quindi mi pare strano che considerando anche la situazione nessuna squadra estera si sia informata poi magari non essendo dell'Inter non so bene tutte le notizie che si sono fatte a riguardo magari ci sono squadre che effettivamente un'offerta l'hanno fatta però io dico la verità finora ho sentito parlare solo di Juve Napoli e ovviamente in tono minore la stessa Roma Roma che quindi con la probabile permanenza di Higuaini in bianco-nero deve cercare un sostituto si è parlato di Radamel Falcao ma sinceramente non lo reputo un nome particolarmente altisonante perché è vero ha segnato 15 gol nell'ultimo anno in Francia parliamo uno del campionato francese e due di un giocatore che ha da poco compiuto 33 anni quindi se tu cedi Dzeko per un discorso prettamente di età non puoi prendere un giocatore che ha la stessa età e non conosce il campionato italiano sarebbe veramente una follia volevo farci un video a riguardo ma ho riassunto in breve il pensiero che ho su di lui sono fatti comunque sempre i soliti nomi sempre Higuaini sempre Cramaric eccetera eccetera tutti quegli attaccanti che si potrebbero appunto prendere per rinforzare l'attacco e stamattina è ritornato appunto il nome di Cardi si dice addirittura che la Roma abbia già fatto un'offerta all'Inter di 30 milioni più il cartellino di Edin Dzeko valutato circa 20 milioni la richiesta che finora sta facendo la Roma al club nero azzurro un'offerta che però almeno per il momento l'Inter non vuole accettare perché comunque reputa l'attaccante argentino più valevole dei 50 milioni che in questo momento la Roma ha offerto considerando appunto anche il cartellino di Dzeko e quindi almeno per ora l'affare non si farà però comunque sappiamo molto bene che nel calcio le situazioni possono variare magari la Roma potrà decidere di mettere un altro cartellino in mezzo magari deciderà di alzare il prezzo del cash da aggiungere al cartellino di Dzeko le possibilità sono molteplici ma io vi dico la verità a me i Cardi piacerebbe tantissimo cioè tralasciando il fatto che io è ancora valida quella scommessa che se dovesse arrivare mi raserei i capelli completamente a zero quindi da una parte non lo vorrei neanche tanto vedere alla Roma però considerando le varie opportunità considerando appunto che il Napoli sta prendendo questo attaccante per questa spesa enorme che la Juve vorrebbe cedere Guain ma il giocatore non se ne vuole andare e se deve venire qua contro voglia è meglio che non ci venga tra gli attaccanti che si possono prendere considerando la loro situazione attuale per me i Cardi sarebbe il migliore sarebbe veramente un top del reparto un attaccante di fama internazionale che si è svalutato solamente per una questione comportamentale che non è da sottovalutare sia chiaro però comunque a livello tecnico rimane ancora un grandissimo giocatore assolutamente vedremo un po' come si evolverà questa trattativa se ci saranno comunque ulteriori aggiornamenti o se si tratta del classico fuoco di paia tirato fuori giusto per vendere qualche giornale in più francamente spero veramente che possa essere vera questa notizia perché per quanto comunque la mia prima scelta rimane sempre Iguain se devo spendere di più per l'ingaggio ma soprattutto prendere un giocatore che non vuole venire qua allora preferisco virare su altri obiettivi e con questo non voglio certo dire che la Roma è il primo obiettivo di Cardi perché sappiamo molto bene che l'attaccante preferirebbe prima la Juve e poi il Napoli ma se si dovesse guardare intorno e vedere che l'unica squadra veramente interessata che lo potrebbe far diventare comunque parte fondamentale del proprio progetto allora un pensino secondo me ce lo potrebbe fare poi sicuramente bisognerà spendere più di 50 milioni per acquistarlo però già intavolare una base trattativa per me è qualcosa di importante perché almeno nelle intenzioni la volontà di creare una squadra forte non solo nel breve ma anche nel lungo periodo fondamentalmente c'è detto questo ragazzi allora fatemi sapere cosa sono i commenti cosa ne pensate un saluto e ci vediamo presto per un altro video ciao ragazzi